ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo a roblox in questa mappa di forza e di braccio di ferro allora qua abbiamo due giri gratis che sono sempre buoni prima che girassi la ruota mi ha già visto che abbiamo le coppe prendiamo le uova un uovo Speriamo nel mammut, ma c'è il pappagallo, non abbiamo più coppe, quindi ci alleniamo. Ah, c'è un regalo, più cento di forza al biciclo, e io inizierei a combattere contro il video. Ok, devo toccare. Ah, vabbè, non era proprio difficilissimo, ma lì c'è un apocalisse. Vabbè, per adesso non mi serve. No, devo avere 3.000 di forza al biciclo. Equipaggiamo al 2000, tipo, 2 kg. Ora possiamo fare un'altra. Ah, quella è... ho sbagliato. Allora, forza delle mani. A me io devo fare solo queste. Allora, qui, braccia. Ma io ho sempre le stesse braccia, non è che ho altre braccia. Allora. Possiamo tirare i pugni. Ho un altro giro. Ci sono altre coppe. No, eravamo vicinissimi al... al... come... al super pet. Ah, ogni 6 minuti mi dà una ruota. Allora lo trovo di sicuro. Ah. Ma perché c'è un braccio? Sì, ho un braccio metà giallo, metà... boh. E noi... vediamo sempre. Allora. Qua penso che c'è un po' di... sto distruggendo tutto. Ah, quanto è difficile. Allora... ce l'ho fatta. Non so perché tiene sempre la cosa là. Però... Allora, mettiamo questo. Ok, ora dovremmo avere pure quello da 3 kg. Per il prossimo dobbiamo avere mille di potenza. Allora, visto che non possiamo prendere quell'altro, torniamo questo. Speriamo ovviamente nel più raro, ma ci dà lavoro. l'ho dimenticato di mettere il... Allora, abbiamo due giri che facciamo subito e speriamo sempre nel pet. per un pet. Oh, per un pet buono. Buono, leggendario. Allora, dobbiamo trovare solo quello... 0,0... Nooo! Per quanto! Non so nemmeno cosa sono i biglietti. Allora, forza della mano. Un nuovo casuale. Zampa Cyberpunk. Eh. Poi, pet 750 e Lucky Potion. Sione della fortuna. Allora, equipaggiamo subito i migliori. Ah! E mi dà 2.900 a botta che alzo. Quindi tipo adesso qua... Che sto? medio? Ah! Devo uscire. In 3 secondi ho fatto tutto il più grande. E qua invece ho portato le mani. Che vuoi? Vediamo questo cosa ci scambia. Io gli propongo questo. Cosa c'è scritto? Hai di token? E non lo so. Non va nulla. Mi fa troppo ridere che facciamo... Ah! Ma sono 2 milioni! Ma io... Ma io... Oh! Io pensavo che fossero 2 mila. Invece sono... Milioni. Pensavo che fossero mille. Invece no, sono milioni. Eh. 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 Io potrei fare già... Questo qui. Ho bisogno di 100.000 di forza. E giuro un attimo. Ah! Ah! Sono già arrivato a 6 milioni. Ma io già posso sconfiggere il boss campione. Cioè non me lo sconfiggere in due tre tocchi. L'ho annientato. Annientato. 30%. Gemstone. Allora. Ehm. Che possiamo fare qua? Indice. Che cosa fa l'indice? Eccolo qua. Ah! Ci dice... Quali pet abbiamo? Voglio provare l'Apocalypse Event. Dove sono arrivato? Ehm. Ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Attivate la campanellina. Ehm. Ehm. Scrivetevi e ciao! Sei brutto! Tua mamma è brutta. Mia mamma è morta. Oh scusa. È morta dal ridere quando ha visto quanto sei brutto.